Buonasera a tutti, sono veramente lieto di essere con voi ancora in questa circostanza, come è stato ricordato, è già quinta o sesta volta che mi accade. D'altra parte ho incontrato padre Cibantanti tanti anni fa e lui prima di lasciarci mi pregò di non dimenticare l'opera delle sue mani, cioè alludendo a questa iniziativa. Quindi quando ho ricevuto l'invito l'ho ricevuto con particolare soddisfazione e affetto per i ricordi del passato. Mi è stato chiesto di svolgere una riflessione al quale farà seguito la discussione, quindi vi invito a non farvi scrupolo, domande o osservazioni di qualsiasi tipo e sarò lieto di dare ad esse risposta sul tema della povertà e, come recita il titolo, le politiche economiche relative. Prima però lasciate che esprima compiacimento per il titolo generale che è stato dato a questo corso di cultura 2024, e cioè vulnerabilità. Perché una confusione di pensiero che spesso si fa è di pensare che vulnerabilità sia la stessa cosa di fragilità. Non è vero. C'è una differenza fondamentale. Perché la fragilità è la condizione di vita di chi in un particolare momento non è in grado di provvedere da sé alle proprie necessità. Mi rompo una gamba, non posso camminare, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Cos'è invece la vulnerabilità? È la condizione di vita di chi in un certo momento è a posto, non ha bisogno di niente, però ha una probabilità molto alta di cadere in una situazione di fragilità, ad esempio entro l'anno o gli anni successivi. Allora voi direte perché è importante questa distinzione? Perché sono diverse le linee di intervento, di intervento politico, politico economico, politico sociale. Perché nei confronti delle fragilità le politiche sono quelle di tipo emergenziale. E di fronte a una fragilità non si può stare troppo a discutere, come si dice nel gergo, quando la casa brucia la prima cosa da fare è spegnere l'incendio, poi si penserà alla ricostruzione. Mentre nei confronti delle vulnerabilità le linee di intervento non possono essere di tipo emergenziale, come purtroppo invece si continua a fare nel nostro come in altri paesi, va detto. Ma devono essere politiche che hanno la prospettiva del medio e lungo termine. Quindi politiche che incidono, come dirò tra breve, sulla struttura. Quindi bene avete fatto nel dare questo titolo a questo corso di quest'anno. Perché parlare di vulnerabilità e di politiche relative vuol dire allungare lo sguardo. E non preoccuparsi solo di quel che accade nel breve periodo. Detto questo, il tema della povertà, anche qui lasciate che cominci con alcune precisazioni. Ci sono due modi di pensare alla povertà. Alla povertà come virtù e la povertà come miseria. È un guaio che nella nostra lingua la stessa parola possa essere usata per avere due significati diversi. La povertà come virtù, chi è la figura che per antonomasia ha esaltato questo concetto? San Francesco. Francesco chiama la povertà Madonna povertà. E cosa vuol dire la povertà come virtù? Vuol dire la virtù del distacco. Cioè bisogna acquisire la virtù di distaccarsi dalle cose e quindi di non lasciarsi dominare da esse. Ma la povertà come virtù non vuol dire miseria. Cioè nella regola francescana, tra tante che ce ne sono, una notazione interessante. San Francesco dice ai suoi confratelli, nei conventi, nei vostri conventi, voi dovete sempre tenere nella maglia, o da qualche parte, pane, formaggio e vino. Sempre. Voi non dovete però abusarne. Dovete prendere quello che vi è necessario. Perché se di notte busta al convento qualcuno affamato, se non avete queste riserve, cosa gli potete dare? Gli potete dare forse una predica? No. Prima bisogna andare da mangiare. Questo per dire che il concetto di povertà come miseria non appartiene alla tradizione cristiana, che sia ben chiaro, mentre appartiene alla povertà come virtù. E infatti si dice, e questo è ovviamente un richiamo al testo sacro, Beati i poveri in spirito. poveri in spirito, che vuol dire distaccarsi dalle cose, ma non i poveri in carne. Perché la carne, il corpo, va alimentato. E per alimentarlo non può, anche perché la miseria induce, impedisce, come sappiamo dalla teologia, all'uomo di accogliere il dono della salvezza. Perché il dono della salvezza si rivolge sempre a un essere umano libero. E se uno è affamato non è libero. E quindi è meno capace di accogliere il dono della salvezza. Questa è la prima distinzione. La seconda distinzione è quella che distingue la povertà assoluta dalla povertà relativa. E questa è pure grande, sarà perché, insomma, sapete com'è, ma i giornali, i media non aiutano le persone che non sono del mestiere a capire la differenza. Perché la povertà assoluta è la condizione di chi, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, ha meno di due dollari al giorno da spendere. In media, tenuto conto del potere d'acquisto, che vuol dire due dollari in un paese in via di sviluppo, sono un conto, due dollari in un paese avanzato, sono un altro conto. Quindi la povertà assoluta è la povertà di chi è nella miseria. È il miseria, cioè quello che non riesce a mantenersi in vita. E questo, come voi direte, è venuto fuori questo dato tanti anni fa. Perché si stabilì un'equivalenza tra numero di calorie di cui il nostro corpo ha bisogno di disporre per mantenersi in vita, non facendo niente, sdraiandosi sul letto. 1.100-1.200 calorie sono necessarie. Poi, se uno lavora, ne consuma di più, eccetera. Non parliamo poi se fa sport. E allora, per acquisire, introdurre 1.100-1.200 calorie al giorno, con due dollari in media, si stabilì allora, siamo negli anni 60 del secolo scorso, sono sufficienti a questo. La povertà, invece, in senso relativo, è propriamente definita in termini di diseguaglianza. La povera, in senso relativo, è, per dare un minimo di annotazione tecnica, che ha un reddito che è minore del reddito mediano. Cioè, si prende il reddito nazionale, si divide per il numero delle persone, si ha il reddito medio. Allora, se il mio reddito è inferiore a quella media, allora io sono povero in senso relativo. Che vuol dire che i poveri in senso relativo non è che non abbiano niente da mangiare. Hanno però una condizione di vita molto scarsa, diciamo, molto non sufficiente per rispettare la dignità. Quindi, la povertà, in senso relativo, ha a che vedere con la diseguaglianza, che caratterizza l'andamento nel tempo, le differenze, in termini di benessere, tra un gruppo sociale e l'altro. E quindi, ancora una volta, capite subito la differenza. Perché nei confronti della povertà assoluta, bisogna intervenire con misure, appunto, emergenziali, misure tampone. Non si sta a discutere. Se la gente sta morendo di fame, bisogna portargli il pane. Poi dopo si penserà ad altro. Nei confronti, invece, dei poveri in senso relativo, misure di quel tipo aggravano la situazione. E non fare il pane, come purtroppo, invece, si continua a fare in Italia, come all'estero e così via. Infine, la terza distinzione, che mette conto, tenere presente, è che quando si parla di povertà in senso relativo, bisognerebbe sempre distinguere povertà di che cosa? Povertà di reddito? O povertà di sanitaria? Condizioni di salute? Io posso avere un reddito anche adeguato. Se però vivo in un contesto dove non ci sono ospedali, non ci sono, eccetera, eccetera, e mi ammalo, e io mi trovo nella condizione di chi non può curarsi e quindi accorciare la propria speranza di vita, pur avendo un reddito che mi colloca in una condizione di relativa decenza. Così come c'è la povertà in termini di istruzione, o culturale, come qualcuno la chiama, e infine c'è la povertà di genere. E qui il genere vuol dire uomini e donne, persone che appartengono a etnie diverse, e così via. Però di fatto, quando si parla di povertà in senso relativo, cioè di diseguaglianza, il riferimento è sempre a quell'indicatore che è il PIL, cioè dire il reddito pro capite di cui si è. E questo è un errore, perché certamente le differenze di reddito contro, ma non sono le uniche differenze, per la ragione che ho ricordato poc'anzi, eccetera. Allora, detto questo, qual è la situazione che si presenta ai nostri occhi? La letteratura sulla povertà, ripeto, anche se non lo dirò più, farò sempre riferimento alla povertà relativa, cioè alle diseguaglianze, perché quella assoluta ha, come dire, una sua collocazione, e se voi fate caso, nessuno obietta mai a interventi mirati a ridurre la povertà assoluta. Nessuno. Che sia di destra, di sinistra, di centro, di su, di giù, eccetera. E si capisce perché di fronte a uno che muore di fame non ci sono di vita. Le differenze ci sono e sono forti nei confronti della povertà in senso relativo, come adesso appunto vedremo. Allora, dicevo, la letteratura sulla povertà in senso relativo è ormai enorme, riempie le biblioteche. Ci sono ovviamente lavori molto di gran pregio, quello che a livello internazionale maggiormente si è affermato è Milanovic. Milanovic è un economista che vive in America, è capo economista della Banca Mondiale, e che è diventato famoso alcuni anni fa per aver pubblicato questo studio nel corso del quale tirò fuori la cosiddetta curva dell'elefante. Adesso qui c'è la lavagna, ma non stiamo a entrare in questo. Perché la curva che rappresenta la distribuzione della povertà in senso relativo tra paesi del mondo assume la forma di un elefante con le zampe anteriori a terra e con la proboscite verticale. Qual è il significato? E tutti ormai la chiamano elephant curve, cioè la curva dell'elefante, perché ha impressionato molti. Cioè la proboscite rappresenta l'1% o 10% della popolazione che ha circa il 90% di tutta la ricchezza mondiale. Poi la parte crescente della schiena dell'elefante, della curva, rappresenta la condizione di vita di tutti coloro i quali nel corso degli ultimi decenni hanno visto migliorate le proprie condizioni di vita e questo il riferimento è a quel paese immenso che è la Cina e l'India e altri vicini. Infine la parte discendente della curva, perché l'elefante ha le zampe anteriori a terra, rappresenta la diminuzione del reddito e quindi del livello di vita del cosiddetto ceto medio e riguarda i nostri paesi, i paesi del mondo occidentale. Ed è questo un dato su cui molti teorizzano. E cioè, mentre la popolazione dei paesi tipo la Cina, India, Vietnam, eccetera, era considerata veramente malmessa, negli ultimi decenni ha fatto progressi enormi e la curva era scendente. Mentre da noi, in maniera quasi correlata, è discendente. Che vuol dire, come i sociologi ci dicono, che il nostro ceto medio, più o meno inteso, ha perso posizioni di benessere e questo spiega molte cose, anche se non è di questo che possiamo parlare stasera, in chiave politica. Ad esempio il populismo trova qui una delle tre principali spiegazioni del populismo. Perché quando il ceto medio, anno dopo anno, perde terreno, ovviamente finisce col credere al primo populista che promette questo o quell'altro, sapendo che poi le promesse non potranno essere mantenute. Perché le promesse vengono mantenute nel breve termine, cioè nell'asseo di tempo che separa un'elezione dall'altra, ma non certamente nel medio e lungo termine. Perché quegli interventi, come vedremo, non incidono sulla struttura, non sono interventi di tipo strutturale e così via, eccetera. Ecco allora il punto che merita di essere preso in considerazione. Quali sono i pericoli dell'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze nei paesi soprattutto occidentali? Anche il discorso dell'Africa è a sé per ragioni che potete facilmente immaginare. In altre parole, come mai negli ultimi 40 anni l'indicatore delle diseguaglianze, che è il coefficiente di Gini, per chi ha studiato un po' di statistica o di economia, Gini è stato un grande statistico italiano, quello che ha fondato negli anni 30 l'Istat, e fu il primo presidente dell'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica. Questo è il punto. Negli ultimi 40 anni l'indicatore dell'aumento delle diseguaglianze si è aumentato in una maniera letteralmente scandalosa, che nessuno era riuscito a prevedere. Come mai? Perché l'economia di mercato di tipo capitalistico c'era già da prima. Anche prima ci erano delle diseguaglianze, lo sappiamo, no? Chi stava meglio, chi me. Ma non tanto quanto adesso. C'è un indicatore che i giornalisti si divertono a citare per far capire il punto. Fiat 1950, Valletta era il numero uno, l'amministratore delegato, e lui prendeva un salario, uno stipendio, che era di 50 volte superiore al salario medio dei lavoratori Fiat. E già allora si diceva, ah, vedi, lui prende 50 volte di più. Arriviamo, il dato è riferito al periodo in cui c'era Marchion, che ora non c'è più, prima che spostasse la Fiat da Torino in Olanda. Ebbene, Marchion prendeva un salario che era di 700 volte superiore al salario medio dell'operaio Fiat. A questo punto concludete voi. Sempre in Italia, sempre la stessa impresa, nell'arco di quanto? Di 60 anni, si è passati dal rapporto 1 a 50 al rapporto 1 a 700. E questo è un indicatore grezzo che vi fa capire quello che dicevo, e cioè l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze, eccetera. Ora, quali sono i pericoli associati a un fenomeno di questo tipo? Un primo pericolo riguarda l'assetto democratico. La democrazia non può funzionare quando le diseguaglianze superano una certa soglia. Chi l'ha detto? Aristotele. Perché la democrazia l'ha introdotta Aristotele. Democrazia è una parola greca. Demos kratos, che vuol dire il potere al popolo. E Aristotele, nella sua opera fondamentale, una delle opere fondamentali intitolate politica, dice, se vogliamo la democrazia, dobbiamo volere una relativa, non assoluta, relativa eguaglianza. Perché se ci sono troppe diseguaglianze tra gruppi sociali, la democrazia non può funzionare. E questo lui lo scrisse 2300 anni fa, perché era intelligente. Le persone quando sono intelligenti riescono ad anticipare gli eventi e così via. E infatti, oggi, noi tutti lo sappiamo, la crisi della democrazia. La nostra democrazia è in crisi. Ora qualcuno un po' superficiale dice, ma perché c'è? No, magari fossero quelle le ragioni. È che, di fronte ad un aumento endemico delle diseguaglianze, il principio, non il meccanismo. Il meccanismo democratico funziona. Se il meccanismo vuol dire elezioni, le facciamo pure le elezioni. Ma cosa c'entrano le elezioni col principio democratico? Le elezioni sono uno strumento. Il principio democratico è un principio etico. Perché la democrazia appartiene alla politica. La politica ha a che vedere con la filosofia morale. Non dimentichiamo, non ha a che vedere con la tecnica. Che però ci vuole, è utile, eccetera. E quindi, ecco allora il primo effetto negativo dell'aumento delle diseguaglianze. Che mina le basi, il principio democratico. Perché il principio democratico è il principio che affide, che il principio si chiama di universalismo, affida a tutti i cittadini la capacità e il potere di intervenire. Ma se io rimango indietro rispetto al gruppo di testa o al gruppo sociale di riferimento, a un certo punto mi lascio andare e dirò perché devo partecipare al gioco democratico? E perché allora negli ultimi tempi oltre il 40% non va a votare? E questa è la ragione. Perché la gente dice, cosa vado a votare a fare? Non conto niente. In Italia, nel dopoguerra, quando c'era la miseria che si tagliava a fette, soprattutto anche da queste parti, in vero e anche altrove, andava a votare il 92% nel dopoguerra. Quindi la storia, qualcuno dice, ma perché c'era ignoranza? C'era molta più ignoranza allora di adesso. C'erano ancora tanti analfabeti, però andavano a votare. Oggi le persone sono cresciute nella dimensione della conoscenza, però non vanno a votare. E la ragione è esattamente questa. Perché se io appartengo a un gruppo sociale, non ho detto che è l'unica ragione, è una delle tre ragioni, a un gruppo sociale che vede che le proprie condizioni di vita non sono destinate a migliorare, mi astraggo e mi metto fuori. Questo è soprattutto presente, non solo, ma soprattutto tra i giovani. I quali dicono, perché io dovrei andare a impegnarmi in politica, a votare, a partecipare alla vita politica, quando la società di cui sono parte tende ad escludermi in quella. La seconda conseguenza molto pericolosa è la diffusione di quell'atteggiamento che è reso dalla parola greca aporofobia. Aporosafobia, che vuol dire il disprezzo del diverso del povero. Aporos vuol dire povero nel senso di diverso in greco. E guardate che l'aporofobia non c'era mai stata. Perché vuol dire il di oggi non solo si tollerono quelli che rimangono indietro, ma li si disprezzano. Questa è la novità. Perché anche nel passato c'erano i poveri. Però nei confronti dei poveri si aveva un atteggiamento quasi di misericordia, di compassione. Ognuno di noi interiore di se stesso. che si faccia venire alla mente i propri genitori o nonni come ragionavano. Cioè, poveretto, diamogli qualcosa se possiamo. Oggi non è più così. Oggi chi versa nella condizione di povertà relativa viene disprezzato. Ed è questa, l'aporofobia, una delle cause principali dell'odio sociale. L'odio sociale. Perché? Perché si comincia col disprezzare. E poi dal disprezzo si passa all'odio. E l'odio prende le forme di cui le cronache puntualmente ci descrivono quando ci raccontano i fatti che leggiamo appunto sui giornali e così via. Una terza conseguenza molto pericolosa dell'aumento delle diseguaglianze è appunto il sviluppo economico. Oggi tutti gli economisti di qualunque scuola di pensiero sono d'accordo nel riconoscere che l'esistenza di forti diseguaglianze rappresenta una minaccia allo sviluppo economico. Però ho detto sviluppo economico, non ho detto crescita. Questo è uno dei punti per cui la categoria a cui io stesso appartengo, cioè la categoria degli economisti probabilmente andrà all'inferno. Perché noi il male che abbiamo fatto e continuiamo a fare lo sa solo Dio. Perché noi insegniamo le cose sbagliate agli studenti. è così, lo faremo in buona fede, speriamo. Perché noi siamo abituati a confondere sviluppo, cioè crescita, crescita, cioè sviluppo. Ma siamo matti? Ma siamo matti? La crescita non è tipica degli esseri umani, anche le piante crescono, anche gli animali crescono. Solo l'essere umano è capace di sviluppo. Perché? Perché la parola sviluppo nella lingua latina è una S davanti a una parola e la S privativa. Come nel greco una A davanti a una parola vuol dire il contrario. Quindi sviluppo letteralmente vuol dire togliere i viluppi, cioè i lacci, i lacciuoli, tutto ciò che impedisce le libertà. Quindi ama lo sviluppo chi ama la libertà. Se uno non ama la libertà non vuole svilupparsi, vuole però crescere. Capite? Allora, voi capite che se c'è una diseguaglianza in aumento ed è una diseguaglianza di lungo termine, questa impedisce lo sviluppo anche economico. Perché? Perché restringe gli spazi di libertà delle persone. E anche se con misure tampone di un tipo o dell'altro si riempie lo stomaco delle persone, quello che si può dire è che in quel modo si favorisce la crescita, la crescita del PIL, prodotto interno all'ordine. Ma cosa c'entra il PIL con lo sviluppo economico? Ci è voluto Papa Paolo VI per primo a introdurre il concetto di sviluppo umano integrale. Concetto che poi verrà ripreso dai suoi successori e in particolare da Papa Francesco che ha appunto denominato come sottotitolo della laudato sì proprio per lo sviluppo umano integrale. E cosa vuol dire integrale? Vuol dire tre dimensioni dell'umano, dello sviluppo umano che sono la dimensione della materialità quindi della crescita che ci vuole la crescita ma la dimensione socio-relazionale è la dimensione spirituale. Quindi un modello di sviluppo è integrale quando riesce a tenere in mutuo bilanciamento starei per dire equilibrio le tre dimensioni cosa che non avviene perché sull'altare della crescita noi abbiamo e tuttora continuiamo a sacrificare la dimensione socio-relazionale capite pensate alla famiglia la famiglia è un bene relazionale sapete non è altra cosa e la dimensione spirituale e si dice ah ma lo dobbiamo fare per la crescita ma che discorsi sono questi? Allora vuol dire che noi pensiamo che l'essere umano è equivalente all'animale a un cane se ha fame gli buttate anche da mangiare lui è contento non gli interessa come glielo avete buttato perché glielo odiate e noi vogliamo pensare all'essere umano in quei termini ecco allora il punto le diseguaglianze minano lo sviluppo umano integrale anche se favoriscono la crescita perché l'aumento delle diseguaglianze degli ultimi 40 anni si è accompagnato da un aumento vistosissimo del PIL cioè della crescita e questo è il paradosso paradosso è una parola greca che vuol dire sorpresa meraviglia paradoxa c'è qualcosa che non ti aspetti perché perché che ci siano le diseguaglianze se fossimo in un mondo di scarsità uno dice eh vabbè c'è chi è fortunato ma non è così oggi le diseguaglianze aumentano mentre aumenta la crescita ecco perché ho detto gli economisti andranno all'inferno perché hanno sempre spaccando la testa anche gli studenti se no venivano bocciati parlare modelli di crescita mai modelli di sviluppo altro punto le cause allora abbiamo visto i termini abbiamo visto gli effetti perversi sui tre piani principali anche se non sono gli unici quali sono le cause allora bisogna avere il coraggio di dire che le cause dell'aumento delle diseguaglianze cioè delle povertà in senso relativo hanno natura strutturale cioè cosa vuol dire strutturale dipendono dall'assetto istituzionale che noi ci siamo dati non solo noi italiani ma in generale da prima il mondo occidentale poi per imitazione anche gli altri mondi nel corso del periodo che va dal secondo dopoguerra ad oggi voi sapete che le istituzioni altro non sono che le regole del gioco se le istituzioni sono politiche parleremo di regole del gioco politico se le istituzioni sono economiche parliamo di regole del gioco economico ebbene dovete sapere che le strutture cioè le istituzioni economiche sono tutte strutture di peccato chi ha introdotto questo concetto Giovanni Paolo II nella enciclica che pubblicò vent'anni dopo la Populorum Progressio dove per la prima volta della storia della dottrina sociale della Chiesa introdusse questo concetto strutture di peccato cioè le istituzioni abbiamo delle istituzioni che producono il peccato che vuol dire da un punto di vista teologico che il peccato non è solo quello del singolo individuo ognuno di noi fa peccato è chiaro che bisogna combattere ma anche le strutture cioè le istituzioni sono sorgenti di peccato e quindi male fanno quei teologi che si vede che hanno studiato poca teologia che insistono sempre solo nelle omelie nell'omiletica eccetera a porsi il problema del peccato individuale che è chiaro che è così chi lo può negare ma vogliamo ridurre tutti i nostri problemi a quello pensate voi quando quello che è successo durante la crisi finanziaria 2007-2008 chi ha seguito lo sa se io lavoro in una impresa bancaria che fa speculazione e il mio capo mi dice guarda che tu devi vendere questi prodotti e io so che quei prodotti sono carta straccia e utilizzo per via di asimetrie informative la mia conoscenza per convincere il vecchietto o la vecchietta come si dice a comprare carta straccia io mi vengo a trovare in una situazione del seguente tipo che io so che faccio del male però sono obbligato a farlo perché la mia struttura cioè il mio capo mi ordina di farlo altrimenti mi licenzia ecco allora è già qui cominciata a capire l'implicazione se vogliamo ridurre le diseguaglianze non dobbiamo farlo con le prediche al vento bisogna cambiare le strutture cioè le istituzioni e questo è possibile e questo è possibile come diremo ad esempio un esempio di struttura del peccato i paradisi fiscali sapete cosa sono i paradisi fiscali quei posti ce ne sono una trentina in giro per il mondo forse avete messo i vostri soldi anche voi lì dove non si pagano le tasse e voi capite allora le implicazioni non c'è bisogno di essere economisti per capirlo ma i paradisi fiscali sono stati introdotti come voi sapete alla fine a metà degli anni 80 1980 prima non c'erano allora perché qualcuno ha il coraggio qualche economista da strapasso ha il coraggio di dire ma sai i paradisi fiscali sono funzionali per far funzionare bene i mercati ma sono discorsi da fare è un delinquente uno che dice questo perché è falso perché prima degli anni 80 non c'erano eppure c'era l'economia di mercato e come e di cosa se ne sono fatte allora i paradisi fiscali sono stati introdotti legalmente è stata una delibera delle Nazioni Unite perché avete già capito quelli che avevano potere di incidere sul processo deliberativo hanno ottenuto eccetera allora la prima cosa da fare è chiudere i paradisi fiscali ed è possibile in 24 ore si possono chiudere basta dire da adesso in poi si chiudono e questo già migliorerebbe molto non so se voi seguite la cronica di questi giorni di Stellantis Stellantis la Fiat la Fiat la Fiat Torino sì o no eh però la Fiat è andata ad Amsterdam perché l'Olanda è un paradiso fiscale quindi un'impresa tipicamente italiana che per evadere fa lavorare gli italiani produce profitto e però non paga le tasse su quel profitto perché portando la sede legale ad Amsterdam là non gli fanno pagare le tasse o gliele fanno pagare molto di meno eh questo sono esempi di strutture di peccato ecco allora la prima causa del fenomeno di cui ci stiamo occupando e già da questo capite cosa occorrerebbe fare per intervenire così come bisogna riscrivere gli statuti di organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale la Banca Mondiale l'Organizzazione Mondiale del Commercio e via discorrendo perché perché quegli statuti sono tutti pensati in funzione di certi gruppi sociali e non di altri per chi avesse come dire avesse studiato un po' di storia economica sa Keynes quello che fece perché Keynes che era inglese ed era rappresentava l'Inghilterra Bretton Woods nel 1944 l'aveva anticipato ha detto se facciamo approviamo questi statuti succederà questo questo e questo ma non venne ascoltato venne messo in minoranza dagli Stati Uniti e quindi tant'è vero che dopo lui se l'ha preso moltissimo ma soffrì e morì e morì antitempo per attacco cardiaco che i biografi lo hanno per dire che certe persone oneste avevano già capito allora e però si è andate avanti e così via la seconda causa ha a che vedere con un altro fenomeno per il quale pure gli economisti sono responsabili è il fenomeno del cosiddetto trickle down effect che vuol dire l'effetto di sgocciolamento dunque l'effetto di sgocciolamento è una pseudo teoria perché solo uno stupido economista stupido può dire delle cose di questo tipo che sono i neoliberisti è bene resa questa tesi dall'aforisma che dice una marea che sale solleva tutte le barche a rising tide lifts all the boats cosa vuol dire una marea che sale solleva tutte le barche non preoccupiamoci della distribuzione del reddito e delle richieste l'importante è far crescere il pil la marea che sale perché poi se il pil cresce ce ne sarà per tutti l'effetto di sgocciolamento e quindi tutte le barche si solleveranno ora questa è la menzogna più grave ma più grave che si potesse eppure è stata creduta per oltre un quarto di secolo quasi dalla quasi non tutti dalla quasi totalità delle scuole economiche e venivano insegnate queste cose nelle aule universitarie che è un'autentica vergogna insegnare le falsità eppure è stato così e voi sapete chi ha avuto il coro di smascherare in maniera diciamo ufficiale è stato quello strano tipo che si chiama Papa Francesco nel 2014 era stato eletto Papa poco prima lui emana l'Evangelii Gaudium che non è un'enciclica è un'esortazione apostolica Evangelii Gaudium che però è bellissima è la più importante ebbene nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco che è un po' strambo lui dice la tesi dell'effetto di sgocciolamento è la più grave menzogna che ha fatto male all'umanità e aggiunge parole io ricordo era il 2014 che un po' di economisti in questo caso italiani perché insomma li conoscevo e incontrando come si permette il Papa lui che non è economista a dire che la tesi dell'effetto di sgocciolamento e fecero una recensione dicendo sto Papa ficchi il naso nelle materie che non conosce perché noi che siamo economisti uno più stupido dell'altro ovviamente perché se uno non fosse stupido come dire ci siamo capiti ovviamente ma gliene incolse perché dopo un po' ovviamente sono intervenuti i calibri grossi alcuni premi Nobel come Stiglitz e altri che hanno detto il Papa ha ragione perché la tesi dell'effetto di sgocciolamento è falsa 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 come dire che 2 più 2 fa 5 per dire cioè sono degli errori però nessuno aveva avuto il coraggio di come dire denunciarlo pubblicamente nei seminari dei dipartimenti si dicevano queste cose e così via allora voi capite l'implicazione e infatti è venuto fuori l'altro aforisma che dice quando una marea sale le barche che erano rimaste impigliate nel fango quando la marea sale vengono sommersi che capite è la contro e in effetti rende molto l'idea la marea è salita il PIL il reddito nazionale è aumentato l'ho detto prima però questo non ha fatto altro che sommergere che vuol dire peggiorare la condizione di vita di chi stava in basso e così via quindi questa è anche una delle ragioni per cui questo Papa si è meritato e che fra l'altro è una delle ragioni per cui viene odiato da tanti gruppi perché lui ha rotto le uova nel paniero ovviamente c'è chi continua a praticare però almeno adesso nessuno può avere la spudoratezza in una conferenza pubblica di dire noi neoliberisti assicuriamo il benessere a tutti perché facendo alzare la marea cioè la crescita cioè il PIL alla fine beneficiamo tutti e così via quando invece non è vero adesso io non entro nei dettagli della dimostrazione però non ci vuole vi assicuro molta intelligenza ma questo succede non per mancarsi ma per cattiveria perché quando si è cattivi anche se si è intelligenti si dicono cose sbagliate false che producono il male la terza causa che pure deve essere messa in evidenza è quella legata a quell'altro fenomeno culturale che ha preso a circolare negli ultimi 25-30 anni e che corrisponde al nome di meritocracia non so se l'avete mai sentita parlare ogni tanto anche dei giornali italiani voi siete autorizzati se vi capita date pure la colpa a me date il mio numero di telefono ditegli che Zamani ha detto che sei un imbecille appunto e così gli si chiude la bocca perché abbiamo ancora oggi e capita anche in questi giorni di leggere in alcuni giornali ah ci vuole il criterio meritocratico che se ci fosse più meritocracia ecco chi dice questo o è un imbecille secondo me oppure un delinquente perché vuole fare il male allora un chiarimento meritocracia è una parola greca risulta dalle due parole greche kratos vuol dire potere vuol dire il potere a chi è eccellente a chi è come dire più dotato mettiamolo così eccetera ora questa tesi della meritocracia a parte il fatto che Aristotele per primo disse che la meritocracia non è compatibile con la democrazia perché democrazia vuol dire il potere al popolo non il potere agli ottimati e nel popolo ci sono i geni ci sono quelli meno geni quelli più umili eccetera però una testa è un voto ognuno vota e conta per uno nella democrazia nella meritocracia invece si dice il potere lo dobbiamo dare agli ottimati ai super eccetera ora perché questa storia della meritocracia ha cominciato a circolare per giustificare si fa per dire l'aumento delle diseguaglianze perché la storiella che si è fatta credere a tanti e si continua a far credere è che se voi siete indietro rispetto a questi cioè la diseguaglianza è colpa vostra perché non ve lo siete meritato perché si confonde la meritocracia con la meritorietà la meritorietà è un criterio di giustizia la meritorietà ma non la meritocracia e quindi vedete quando manca la cultura si fa credere alla gente una cosa per l'altra meritorietà vuol dire che io devo tener conto ad esempio dello sforzo dell'impegno ma a scuola gli studenti prendono tutti lo stesso voto no perché se io vedo che uno studente si è impegnato gli do 30 a un altro gli do 24 gli do 27 quella è meritorietà ma non è che quelli a cui io do 30 elode gli do il potere di giudicare gli altri gli do il potere è un accidente capite perché se noi applicassimo il criterio meritocratico in un ambito come quello scolastico vorrebbe dire che i più bravi meritano di ottenere di più in termini di attenzioni dai professori dedicano più tempo a loro perché sono bravi quelli meno bravi che saranno tanto sono poco bravi è vero o non è vero o qualcuno mi può smentire no non dico che tutti così per fortuna che ci sono professori maestri maestre eccetera che però la tendenza si tende a dire questo dobbiamo valorizzare i migliori ma scusa ma se la scuola ha un senso è per valorizzare quelli che sono più indietro non quelli che sono in alto perché se uno è molto intelligente sarangia da solo sviluppa da solo e sì o no e allora se la scuola ha un senso è per alzare il livello di tutti e quindi più attenzioni e più risorse devono essere dati a quelli che sono in fondo non a quelli che sono in cima che poi dopo e poi dopo si dice quando escono da scuola gli altri li picchiano eccetera per forza perché vedete dopo questo alimenta l'odio sociale ma la colpa è dei professori dico ma un professore deve fare così il professore deve dedicare più attenzione e più tempo a chi è indietro ecco allora la terza causa che merita di essere sottolineata che il criterio meritocratico è stato perché fino io sfido tanto abbiamo una certa età qui vedo ma fino a 25 a 30 anni fa mica si parlava di meritocracia e come mai è venuta fuori negli ultimi 30 anni spiegatemelo voi è venuta fuori in contemporanea all'aumento delle diseguaglianze perché occorreva una giustificazione morale del tipo se tu hai meno di quello è perché tu sei insomma non hai voglia di lavorare sei meno capace bla 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 e quindi colpa tua e quindi chi è povero ha male e malanno si dice in gergo cioè ha il male di essere povero e più il malanno di sentirti anche in colpa capite che questo grida ovviamente a me fa specie quando anche sento qualcuno che si professa cristiano che fa questi discorsi perché se c'è un atteggiamento anticristiano è proprio questo basta che uno abbia avuto tempo di leggere un po' quel libro scritto due mila anni fa che si chiama Vangelo eppure con la faccia tosta di chi dice ah ma sai dobbiamo valorizzare ma non si valorizzano così i talenti perché così si crea l'odio sociale tra quelli gli ottimati e gli altri queste sono le tre principali cause che hanno determinato nel tempo di cui ci stiamo occupando l'aumento idemico ultimo punto perché vedo che il tempo qua passa e scorre veloce che fare allora cosa si può fare primo si può fare perché l'aumento delle diseguaglianze non è un dato di natura cioè non è nell'ordine di natura c'è un bellissimo non so se me lo sono portato vediamo frase di Condorcet un illuminista francese no ah eccolo qua sì me lo sono portato Condorcet siamo illuminista francese 1700 e uno dei suoi libri pubblicati nel 1794 state sentire cosa scrive è facile dimostrare che le fortune tendono naturalmente all'eguaglianza e che la loro eccessiva sproporzione o non può durare o deve per essere mantenuta a seguito dei leggi civili che perpetuano la situazione leggi civili vuol dire l'assetto istituzionale ma l'aveva capito lui cioè nello stato di natura c'è una tendenza a una relativa eguaglianza non proprio totale quindi lui già allora fino al 1700 dice se le differenze se se vivesse oggi capite anche voi cosa direbbe permangono è perché ci sono le leggi civili cioè gli interventi di tipo strutturali che le vogliono mantenere Condorcet ripeto è un luminista famoso per tanti contributi e così via con tanti altri autori che se avessi tempo potrei appunto citare quindi la prima cosa da capire è che è possibile ridurre le diseguaglie che non vuol dire tutti uguali quello era era stato il mito del comunismo Lenin Marx no Marx no Marx è intelligente è molto intelligente Marx stupidacine così non le aveva dette ma Lenin dice facciamo la rivoluzione tutti uguali abbiamo visto com'è andata a finire poi la situazione ma la riduzione delle diseguaglianze è un obiettivo che è possibile perseguire questo è il presunto perché se uno parte dell'idea che sai non c'è niente da fare non si può fare diversamente sapete che sono questi sono i misoneisti segnatevelo questa parola che è una parola greca è bella però dice i misoneisti il misoneismo è l'atteggiamento di chi dice non c'è niente da fare non si può cambiare le cose andranno avanti così voi non credete è falso perché già i greci ai misoneisti li portavano a forza nell'isola in una isola dell'arcipelago dell'Egeo facevano bene perché i misoneisti sono peggio dei pessimisti perché il misoneista toglie la volontà di cambiamento alla gente perché diffondono quell'atteggiamento di come dire indifferentismo ma sai è sempre andato così quindi bisogna eliminarlo ovviamente non in senso fisico ma in senso culturale sì non bisogna dare voce al misoneista chi mi conosce lo sa in qualsiasi ambiente io vado devo frequentare i diversi appena io lo dico in apertura dico se uno si alza e fa il misoneista io lo caccio fuori appedate vedo però che funziona perché mentre accetto uno che critica che dica io non sono d'accordo benissimo ma non quelli che dicono ah sai è quello che questo papa sempre chiama l'indifferentismo ma sì ma sai intanto secondo occorre intervenire e si può ad esempio intervenendo sul modello di scuola università cioè il nostro modello di scuola e università va ribaltato rovesciato come un guanto perché è un modello che tende a generare le diseguaglianze adesso io non ho tempo di argomentarvi portarvi le citazioni ma credetemi che è così perché è un modello che non mette in pratica quel principio che già all'epoca di Aristotele era stato elaborato che è il principio di conazione non avete mai sentito parlare voi chiedete ai professori di tutte le scuole conazione io quando faccio l'idea mi dice ma che cos'è non ho mai sentito ma come mai sentito se è stato cognato 2300 anni fa e sino a tutto il 1700 era la base delle università delle scuole eccetera conazione è la crasi di due parole conoscenza e azione conoscenza e azione quindi conazione e qual è l'idea che la conoscenza deve essere messa al servizio dell'azione e l'azione non può essere esperita se non a partire da una base conoscitiva questo è sempre che vuol dire che la scuola e l'università devono in primis essere luoghi di educazione e in secundis luoghi di istruzione da noi non è così la scuola e le stas sono solo luoghi di istruzione e quindi perpetuano le diseguaglianze perché un conto è l'istruzione altro conto è l'educazione l'educazione è esattamente il movimento opposto all'istruzione istruire vuol dire mettere dentro qui educare educere in latino vuol dire tirare fuori come fare per ridurre le diseguaglianze e allora questo processo di riduzione adesso ho finito il tempo davvero di riduzione delle diseguaglianze ha questo risultato che fa star bene tutti piace a tutti cioè realizza il concetto di bene comune quel concetto di bene comune che l'altro perché i pilastri della dottrina sociale della Chiesa sono quattro io prima ho citato sussidiarietà un altro pilastro è il bene comune che non è il bene mio contro il tuo ma è il mio bene assieme al tuo il mio bene assieme al vostro questo è il punto che non si sforzeremo mai di abituare ecco allora andando a concludere perché affrontare il tema delle diseguaglianze o delle povertà in senso relativo secondo una prospettiva di questo tipo ha probabilità concrete di riusciti perché qui non si tratta di dire come in altri tempi si diceva portiamo via i ricchi e diamo dopo a quelli che sono indietro già dopo che gli hai portato via tutto dopo un po' di anni ricadi nella stessa situazione capite quella è stata l'illusione della rivoluzione comunista tagliamo la testa portiamo via i ricchi e lo ridistribuiamo che è una illusione proprio da poveretti però in quei tempi forse non si poteva pensare no la prospettiva non è quella la prospettiva è di avanzare per tutti però riducendo quelle distanze che misurate dal coefficiente di Gini costituiscono ci indicano l'aumento delle diseguaglianze voi direte ci vorrà tempo è chiaro che ci vuol tempo bisogna far maturare però la prima cosa è spiegare queste cose alla gente perché io vedo che quando queste cose si spiegano alla gente e il paradigma dell'economia civile è nato proprio per questo sapete il paradigma dell'economia civile è un paradigma tipicamente italiano è nato in Italia a Napoli poi da Napoli è andato Milano e altrove eccetera ha questo livello che non è quello di peggiorare la condizione di qualcuno per migliorare quella di altri ma di cambiare le strutture che determinano anche a volte senza la volontà esplicita dei singoli effetti perversi chiudo con una frase che sempre mi ha colpito di uno scrittore americano molto famoso scomparso da tempo che si chiamava Thomas Merton autore di tanti libri tradotti in tante lingue tra cui l'italiano uno di questi libri Merton era ateo poi si converte e diventa trappista e infatti muore nella trappa eccetera e uno di questi libri ha per titolo Nessun uomo è un'isola che io ho lessi tanti decenni fa perché era degli anni primi anni sessanta eccetera ebbene quel libro termina con questa frase dice scrive Thomas Merton il tempo galoppa la vita ci sfugge tra le mani ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente a noi la scelta sapendo che se ci sfugge come sabbia questa cadendo al suolo produce nulla se ci sfugge come semente il seme quando cade al suolo sempre produce frutto tanto o poco a seconda delle circostanze allora l'augurio che ci facciamo reciprocamente in un'occasione come questa è che posto che la vita ci sfuga penso che nessuno abbia dubbi su questo facciamo in modo che ci sfuga come semente grazie per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti